benvenuti in questa nuova tappa del nostro viaggio nel mondo di tesis island partiamo dal concetto ecco i punti chiave grazie a tesis island siamo con te nella rivoluzione di industry 4.0 un mondo dove le macchine del futuro hanno molteplici prodotti connessi tesis island ridefinisce il comando dei motori i costruttori di macchine vogliono ridurre i tempi di ingegnerizzazione e di costi aumentare l'efficienza evitare il fermo macchina e monitorare il consumo di energia vorrebbero poter fare manutenzione predittiva ed essere in grado di prendere velocemente decisioni attraverso la possibilità di accedere ai dati più importanti tesis island è la risposta a queste richieste è una soluzione digitale multifunzione essa semplifica l'accesso ai dati attraverso importanti funzionalità diagnostiche approfondiamo il concetto tesis island offre una soluzione innovativa e digitale per la gestione dei carichi pronti per la nuova era di internet of things esso fornisce controllo di potenza connettività e dati diagnostici per poter prendere decisioni puntuali ottimizzando le performance della macchina con un'esperienza digitale end-to-end user friendly ecostruttor motor control configurator ecostruttor machine expert operation maintenance tool ed ecostruttor augmented operator advisor aiuta a ridurre i costi di gestione ed aumentare l'accessibilità della macchina e la sua efficienza gli avatar tesis consentono un accesso semplice al mondo dell'elettromeccanica anche per gli esperti di automazione i clienti possono interagire con l'isola attraverso funzioni e non attraverso dispositivi l'avatar tesis è un oggetto digitale con una logica predefinita gestita attraverso l'associazione di un modulo fisico che rappresenta una funzione fisica gli avatar tesis sono controllati dal bus coupler che rappresenta la parte intelligente di tesis island esso gestisce la comunicazione tra il plc e l'isola tesis island si integra in ecostruttor augmented operator advisor machine advisor and asset advisor e parte dell'architettura ecostruttor apps e analytics tesis island è completamente integrato in snyder electric ecostruttor esso supporta i maggiori feedback ed è integrato all'interno di snyder electric ecostruttor machine expert come anche in rockwell studio 5000 e nel portale tia di siemens può essere facilmente integrato in qualsiasi sistema di automazione di terze parti diventando compatibile con plc terzi e di facile accessibilità agli oiem con solo 20 codici per l'intero sistema tesis island copre una vasta gamma di applicazioni e di tipologie di carichi con un numero limitato di oggetti fisici fino ad 80 ampere esso offre una protezione flessibile dalla commutazione alla partenza motore e controllo di applicazioni ci sono tre comunicatori bass cinque starter standard e cinque starter sil tre interfaccia di potenza due moduli input output un modulo interfaccia di intenzione e un modulo interfaccia sil ora vediamo all'opera tesis island e come può cambiare la prospettiva prendiamo ad esempio una macchina per il pompaggio e consideriamo i differenti tipi di carichi o di dispositivi senza tesis island è necessaria una competenza elettromeccanica per selezionare i dispositivi con tesis island il configuratore è semplice da utilizzare anche per chi non è uno specialista la lista dei componenti si ottiene selezionando la funzione grazie alla libreria ready to use degli avatar tesis se ci focalizziamo su una partenza stella triangolo questo è quello che un ingegnere di automazione deve programmare senza l'utilizzo di tesis island senza prendere in considerazione che è necessario gestire gli io del plc per ogni contattore con tesis island il bass cappler fornisce un unico access point per l'isola completa e gestisce la logica dei dispositivi questo offre una maggior affidabilità al progettista che può focalizzarsi sulla gestione dei carichi grazie ai blocchi funzione un unico punto di comunicazione tutti i moduli sono connessi al bass cappler grazie ad un flat cable che elimina la necessità di controllo del cabraggio oltre che una riduzione della progettazione dei tempi di installazione e riduce l'errore umano le funzionalità diagnostiche di tesis island permettono affidabilità nella progettazione incremento della produttività delle macchine e una migliore gestione delle attività tesis island monitora i comportamenti anormali e mette in funzione allarmi per prevenire il fermo macchina l'operation e il maintenance tool fornisce un accesso web sistema completo tesis island ovunque tu sia questo facilita la risoluzione dei problemi e riduce il fermo macchina grazie per aver guardato questo video ecco i punti chiavi da ricordare prima di proseguire per il prossimo learning video grazie per aver guardato questo video